Musica Nuovo spazio dedicato all'informazione, buona serata e ben ritrovati. A Rovigo la procura sta indagando su un'altra morte sospetta riferita ad un paziente che era ricoverato agli istituti polesani di Ficarolo. La vicenda da chiarire è quella del cinquantenne Giuseppe Padoan, deceduto nella struttura nel 2010, in circostanze che oggi fanno presupporre una responsabilità di terzi. Per questo la magistratura ha addirittura ordinato la riesumazione della Salma. All'interno della struttura si erano già consumati altri due delitti per i quali era stato arrestato un paziente disabile di 36 anni che era in cura con le persone che sono state uccise. Non è escluso che anche questo terzo decesso possa essere imputabile allo stesso arrestato. Senza contratti regolari i sinti di Vicenza non riceveranno più acqua e luce. Il campo in questione è quello di Via Cricoli. Fino ad ora i residenti avevano goduto dei servizi messi a disposizione dalla Comune. Dopo una serie di trattative che ne richiedeva la regolarizzazione, il Comune ha inviato delle raccomandate per contrattualizzare e regolare questa loro posizione. Le lettere però sarebbero state rispedite al mittente. A questo punto il primo cittadino avverte che i servizi non regolari saranno tagliati. E tema caldo ovviamente in Veneto resta sempre quello della sicurezza. Nuovi appelli al governo. Lo ribadisce per l'ennesima volta il presidente della regione Zaia ma prende una posizione decisa anche il prefetto di Treviso. Anche oggi la cronaca del Veneto riporta numerosi reati commessi ai danni di cittadini. A intervenire con toni decisi il prefetto di Treviso che ha preso opposizione chiedendo al governo misure urgenti in tema di sicurezza per affrontare l'emergenza, criminalità. Il prefetto trevigiano ha parlato anche della necessità di dare un supporto alle forze dell'ordine. L'argomento sicurezza non viene abbandonato nemmeno dal presidente della regione che quasi quotidianamente si appella al governo. Parlando della tragedia vicentina Zaia ribatte ancora una volta sulla necessità di avere l'esercito per la strada. La partita di Nando è una partita tragica e dico che noi non possiamo omologarci al fatto che tutti devono armarsi per difendersi. Lo dico semplicemente per un motivo perché la soluzione non è riempirci di armi, la soluzione è riempirci di poliziotti e di gente che controlla il territorio. Penso che l'esercito in strada sia una soluzione, sono l'unico che lo propone e continuo a proporlo. Sono migliaia di uomini a disposizione, ma penso anche che sia fondamentale ricordare che la certezza della pena deve essere il driver come si direbbe. Spiegatemi per quale motivo negli Stati Uniti se commetti una minima infrazione ti fai una notte di carcere. In Italia bisogna aver accumulato quattro anni di condanne per andare a fare un giro dal giudice. Padova, quasi 20 grammi di hashish sono stati recuperati da una volante della polizia che ieri sera in città ha pizzicato il tunisino che l'aveva nascosta in centro storico, nelle piazze. Per prendere il pusher non è mancato un inseguimento attraverso le vie del centro. L'immigrato infatti, vistosi scoperto, aveva tentato una veloce fuga. Ma i poliziotti non hanno demorso e lo hanno raggiunto. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo di 76 anni dalle acque di un fosso in provincia di Verona a Sorgà. L'uomo era scomparso dalla sua abitazione nella giornata di ieri. Secondo la prima ricostruzione del dramma, il veronese era andato alla ricerca di legna, ma sarebbe stato colto da un malore fatale cadendo nel fosso. Sono in corso le ricerche del pirata della strada che ieri a Casella d'Asolo in provincia di Treviso ha investito una donna di 75 anni che stava camminando sul ciglio della strada. La macchina l'ha travolta e poco dopo la signora è stata investita da una seconda auto che è arrivata subito dopo. Inutili i tentativi di salvarla, l'impatto troppo violento non le ha dato scampo. La polizia stradale ha la ricerca dei dettagli utili al ritrovamento dell'investitore. La scena è stata vista dal secondo automobilista, ma probabilmente il conducente è stato ripreso anche dalle telecamere e sono numerose presenti in zona. Segnalati alcuni episodi di insicurezza nei confronti del personale femminile che lavora all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Oggi ne ha parlato la Nuova Venezia, ma anche a noi sono giunte varie segnalazioni. Sentiamo quali sono i fatti e cosa chiedono le lavoratrici. Più sicurezza per tutelare il mondo femminile che lavora nelle ore notturne dentro all'aeroporto Marco Polo di Tessera. A chiederlo sono proprio le donne che in più di qualche occasione si sono trovate a fare i conti con situazioni di disagio e pericolo. Sulle pagine della Nuova Venezia viene raccontato l'inseguimento notturno nel parcheggio del terminal da parte di un uomo nei confronti di un hostess di terra, gli assistenti che seguono i clienti ai check-in dei voli. Una folle corsa tra le auto parcheggiate per mettersi al sicuro, mentre lo sconosciuto continuava a cercarla. Ma alla nostra redazione sono giunte anche altre segnalazioni, come quelle che raccontano di senza tetto che nella struttura aeroportuale hanno trovato un posto per dormire. Si vedono la notte, principalmente quando fuori piove. Nelle ore diurne questi soggetti si possono confondere con il numeroso afflusso di passeggeri, ma di notte, quando il terminal è semivuoto, certamente non passano indifferenti. La loro presenza, anche se apparentemente innocua, preoccupa chi dentro la struttura ci lavora. Le reazioni di questi sconosciuti non vanno date per scontate. L'appello di un gran numero di lavoratrici viene lanciato a Save, con la richiesta di adottare misure di sorveglianza più severe e mirate a garantire la tranquillità di chi lavora all'aeroporto nelle ore notturne. La sanità protagonista al centro San Gaetano di Padova per un convegno sulla medicina lenta, intesa come riflessiva. Un nuovo modello da utilizzare per combattere gli sprechi e portare in primo piano la relazione tra medico e paziente. Ne promuove la sostenibilità economica e sociale. Sostanzialmente si ascoltano di più i sintomi e si sottopone il paziente agli esami che sono strettamente necessari. Il convegno si svolgerà giovedì e sono già 300 le adesioni. Il proprietario della gioielleria di Ponte di Nanto, assalita dai banditi dove si è consumata la tragedia con l'uccisione del nomade, ha scritto un messaggio di ringraziamento al benzinaio che ha sparato difendendo lui e la sua collaboratrice. La pagina era stata comprata dal commerciante per pubblicizzare l'attività ora fa, ma Roberto Zancan ha voluto utilizzare questo foglio per esprimere la sua gratitudine verso chi gli ha salvato la vita. Viaggia in treno con il fratello ma con il biglietto sbagliato. Quando il controllore li scopre ovviamente scatta la sanzione ma lui, pensate, arriva perfino a derubarlo. Sentite cosa è successo a bordo di un freccia argento che stava arrivando a Padova. Vengono sorpresi in prima classe a bordo di un treno a Roma-Venezia con un biglietto di seconda. Il controllore, come da prassi, inizia a scrivere la multa, ma mentre sta preparando l'ammenda uno dei due viaggiatori lo deruba. Protagonista del furto, un coreano poco meno che ventenne. Il giovane si è impossessato del cellulare del controllore e si è nascosto in bagno mentre il compagno di viaggio aspettava il verbale. Il controllore, accorgendosi del furto, è andato alla toilette dove ha individuato il ladruncolo e si è fatto riconsegnare il cellulare, mancante però di batteria. La vicenda sarebbe passata in sordina dopo la discesa dal convoglio del passeggero. Se non fosse che quest'ultimo, un po' sbadato, ha commesso un passo falso. Avendo perso il suo giubbotto in pelle, si è rivolto all'ufficio oggetti smarriti, dove invece di trovare il capo d'abbigliamento ha rincontrato l'uomo che aveva derubato. Il controllore ha allertato la polfer ed è scattata la denuncia. Stamane nel centro storico di Padova, cerimonia di commemorazione per le vittime delle foibe. La giornata è stata celebrata dal prefetto della città e dal sindaco, presenti un centinaio di persone. La giornata, istituita nel 2004, vuole ricordare ogni anno le vittime di quei terribili ecili. Netta contrarietà alle ipotesi di liberalizzazione del servizio farmaceutico allo studio del governo. Ad esprimerla è l'Associazione Giovani Farmacisti Italiani, con una lettera aperta che è stata indirizzata al Premier Matteo Renzi, ai ministri Lorenzin, Guidi e Boschi. Al centro dell'attenzione c'è anche un'altra questione, ovvero l'apertura di 3.000 nuove farmacie. Ciò che la categoria teme è che possano prendere il sopravvento le grosse catene farmaceutiche gestite da multinazionali e gruppi di grande distribuzione che andrebbero a cozzare contro la forza delle gestioni attuali. I giovani farmacisti affermano che sarebbe per noi difficile mantenere un'autonomia professionale con grave danno per la qualità e l'obiettività dell'offerta verso il cittadino. Parliamo di sicurezza stradale ma anche di prevenzione. È stato presentato oggi dalla Polizia Stradale del Veneto il progetto Icaro 2015. È arrivato alla sua quindicesima edizione. Sentiamo. A Padova torna per la quindicesima edizione del progetto Icaro realizzato dalla Polizia Stradale. Obiettivo sensibilizzare gli studenti delle scuole al rispetto delle regole di guida in bici e farli riflettere sul tema della mobilità sostenibile e delle buone pratiche di salute. L'edizione 2015 del progetto Icaro prende il nome di Sicuramente in Bici. 3.000 gli studenti coinvolti nelle scuole primarie e secondarie del Veneto. I ciclisti appartenenti alla categoria dei cosiddetti utenti deboli della strada si collocano al quarto posto tra le categorie di veicoli più a rischio di incidente e nel corso dell'anno 2014 i dati a disposizione degli organi di Polizia Stradale confermano che viaggiare su due ruote, moto e bici è ancora estremamente pericoloso. Lo è ancora di più nei fine settimana. Un incremento del 15,4% degli incidenti stradali che va in controtendenza rispetto al passato con le vittime di incidenti su due ruote che tra il 2012 e il 2013 erano scese di 100 unità. È un impegno enorme quello richiesto alla Polizia Stradale con Icaro 2015 ma lo consideriamo un investimento per la sicurezza e il futuro dei nostri giovani, lo afferma il dirigente del compartimento Mario Nigro. Il programma dell'attività di educazione stradale prevede per i più piccoli la realizzazione pre e post intervento di disegni e simulazioni, per i più grandi la compilazione di questionari sempre pre e post intervento e tutti mediante esercizi, video tutorial e video interviste di personaggi importanti e campioni di ciclismo che hanno deciso di condividere con gli studenti il loro personale rapporto con la bicicletta. Il progetto è anche legato ad un concorso per i ragazzi che prevede la realizzazione di elaborati, anche in chiave ironica, del tema sicuramente in bici, riferito alle regole da rispettare per pedalare in sicurezza. Tra i premi, la possibilità di partecipare per gli alunni delle scuole secondarie superiori a uno stage sulla sicurezza stradale tenuto dai poliziotti della Polizia Stradale. Non conoscono remore, i rapinatori o i truffatori che in Veneto approfittano dei cittadini. Nella notte un'automobilista che stava transitando lungo la tangenziale est di Vicenza ha visto una donna con un bambino piccolo in braccio che chiedeva aiuto. Erano a lato strada e lei si sbracciava. L'uomo a quel punto si è fermato ma sono spuntati dei complici della donna che lo hanno rapinato di ciò che aveva con sé e poi si sono dileguati. Purtroppo gli episodi sono molti anche se se ne sta parlando poco. Bisogna porre attenzione anche se si vede qualcuno che sembra in difficoltà. Nel dubbio il consiglio è di chiamare sempre le forze dell'ordine. Parliamo di sport ma anche di turismo. Arrivata oggi la notizia. Cortina candidata per i mondiali di sci. La Regione sostiene la candidatura per l'assegnazione a Cortina dei campionati mondiali di sci alpino del 2021. La decisione è stata assunta dalla Giunta Veneta che ha aderito alle richieste di supporto e partecipazione al Comitato Promotore avanzate dall'amministrazione comunale ampezzana. Ci riproviamo con maggiore determinazione di due anni fa, afferma il Presidente della Regione Veneto, quando ingiustamente la candidatura di Cortina a ospitare i mondiali del 2019 non venne premiata per una scelta che ancora oggi appare incomprensibile. Ma quella è ormai acqua passata. Adesso, dice il Presidente Zaia, guardiamo avanti ma nella convinzione che quel progetto continui ad essere attuale e possibilmente ancora più forte e competitivo, in grado di far fare al Veneto e all'Italia, una bellissima figura. Ricordiamo infatti che nel giugno dello scorso anno a Barcellona la Federazione Internazionale dello Ski decise di assegnare l'organizzazione dei campionati alla cittadina svedese di Are, che ottenne nove voti contro gli otto dati alla località veneta. L'attribuzione dell'evento a Cortina, prosegue il Presidente, costituirebbe uno straordinario traino per lo sport italiano e per tutto il comparto della montagna, un'opportunità di investimenti utili per la crescita economica, turistica e occupazionale, un'irripetibile occasione per consolidare il progetto di eccellenza turistica Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità. L'attribuzione dell'evento a Cortina, prosegue il Presidente, costituirebbe uno straordinario traino per lo sport italiano e per tutto il comparto della montagna, un'opportunità di investimenti utili per la crescita economica, turistica e occupazionale, un'irripetibile occasione per consolidare il progetto di eccellenza turistica Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità. Uno sguardo alla situazione meteo prevista sul Veneto, fino a giovedì avremo l'alta pressione, le caratteristiche salienti saranno il cielo ancora a sgombro da nubi significative e il fenomeno dell'inversione termica. Da venerdì avremo una depressione in avvicinamento da nord-ovest, ci sarà un aumento della nuvolosità e una probabilità di precipitazioni che dovrebbe arrivare in particolare dalla giornata di sabato. Naturalmente seguiremo poi l'evolversi delle condizioni. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci a domani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS